Ma è marzo! Quattro a cento, andrà a passare qui, Patini, sicuramente il tempo di riferimento, Simone Baroni, atleta di casa, molto aggressivo, che chiude, vince la sette, 5-7-7. Quattro a cento, andrà a passare qui, Patini, sicuramente il tempo di riferimento, non è marzo, 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 non è marzo. Quattro a cento, andrà a passare qui, Patini, sicuramente il tempo di riferimento, non è marzo, non è marzo, non è marzo, non è marzo, non è marzo. Nervini Michele, Chiara e Mattia, ecco lì, altra guato, 18-619 per Chiara e Mattia, 18-675 per Nervini Michele. Mai Cubra! Mai Cubra! Mai Cubra! Luca, Adamaschetti, Andrea, Cubranice, Tottino. aaa! He Cubra! Il Cubranice c'è 19-608, mentre Hermeto Masiuka 20-663. 163 6 6 7 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 8 7 5 7 7 7 8 7 7 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 9 9 9 10 10 9 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 10 10 12 12 12 13 14 4-25, Pedrinelli 18-9-1 Libio 18-32, Brady L'Entero 215-2 Jaguar 113-9 per Proプ placed intt cotone e il 18 918 per poi abbiamo il signor la pidi non è un marco donna tempo è in uscita 18 340 per Marco Medona 20 780 per Lenti Edoardo